Dopo il debutto con la donna, tocca all'uomo. Come stai affrontando questa avventura? Con la massima tranquillità, con la massima serenità, in quanto questa collezione è un manifesto di onestà. Sono partito dalla parola truth, verità. Sono partito da due canzoni, per me la musica è sempre importante. Johnny Cash che si chiede cos'è la verità, what is true, e con i Vampire Weekend che dicono Don't lie, I am what I am. Non dire bugie, essere se stessi. E quindi è un manifesto di quello che è MSGM oggi. Moderno, contemporaneo, c'è stampa, c'è colore, con la differenza che la stampa diventa messaggio, diventa una comunicazione d'amore, diventa poesia. Ed è stato bello, mi sono divertito. Dopo il primo monomarca a Milano, a che punto è il piano di espansione retail? È un buon punto, stiamo progettando nuove aperture, molto probabilmente anche entro l'anno. Non in Italia, ma comunque all'estero. Giappone, Asia, Emirati, eccetera. Quali sono i paesi nei quali avete avuto più riscontro in questi mesi? Lo sviluppo sta avvenendo a livello globale, senza particolari paesi dove c'è uno sviluppo maggiore. Questo è interessante, questo è bello. Sta andando molto bene l'America, la Russia, l'Asia, gli Emirati, che per assurdo, a pensarci bene, non sembra un prodotto per gli Emirati Arabi. Sta andando molto bene anche lì. Secondo me viviamo un momento dove anche la globalizzazione, tutto quello che deriva anche dai social network, adesso è tutto in diretta, è tutto online e il cliente finale lo sente. Grazie a tutti.